sta per partire Menez gol! 3 a 1 ragazzi 3 a 1 Jeremy Menez nasce tutto da Menez parametro vero parametro vero parametro vero finisce il primo tempo parametro vero Menez parametro vero Menez 3 a 1 per Menez 3 a 1 per noi fra poco ancora con voi fra poco ancora con voi fra poco ancora con voi